Il mio lavoro è correggere i ricordi. Lo faccio spesso per me la sera prima di andare a dormire. A volte lo faccio anche per altri, come in questa storia che sto per raccontarvi. Questa è una storia dimenticata, una storia d'altri tempi. Una storia bellissima, tutt'altro che leggendaria. È una storia molto attuale per le cose che racconta. Ecco, io oggi sento l'esigenza di raccontare le grandi donne della scienza, non soltanto perché io sono una fisica, non soltanto perché sono una donna, ma perché non sono più una musa ispiratrice per qualcun altro, non sono una principessa che cerca la scarpetta che ha perso. Sono storie ormai del passato queste, non fanno più parte del nostro mondo. E sento l'esigenza di fare questi racconti, soprattutto per la nostra società, per quello che vediamo fuori, per quello che ci raccontano i giornali, e che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni quando accendiamo la televisione. I bambini l'hanno già capito. I bambini hanno fatto un sondaggio, hanno fatto un sondaggio e hanno chiesto qual è il personaggio preferito nella storia, nella saga di Harry Potter. Tutti hanno risposto Ermione. Ermione, Ermione è la ragazza secchiona, quella che si dà da fare e che ha le sue cose perché se le è guadagnate. Non è Harry Potter che è un maghetto miracolato con i poteri che gli sono caduti dall'alto. No, la secchiona, essere secchione oggi è una cosa figa, non è più come venivano viste nel passato. Ecco, questo racconto che voglio farvi oggi, questa storia, parte da molto lontano. È il racconto di una donna straordinaria, che non è stata omaggiata abbastanza, ma da cui noi oggi possiamo trarre tutte le energie per realizzare i nostri sogni, perché noi oggi possiamo fare tutto quello che vogliamo, lo sapete, no? Tutto. Non è più come nel ventesimo secolo. Ecco, questa è la storia, tutt'altro che leggendaria, di Lise Meitner. Quando Lise Meitner è nata a Vienna, nella ricca Vienna, nella Vienna borghese, nata da una famiglia borghese ebrea, Werner Heisenberg aveva, quando Werner Heisenberg è nato, Lise Meitner aveva già 23 anni, Werner Heisenberg è nato il 5 dicembre del 1901. Lise Meitner si era appena diplomata all'Accademischen Ginnasium Wien e per le donne l'insegnamento doveva finire già alle medie, però lei viveva in una casa molto ricca, con questi genitori che le davano tutte, le dava la possibilità di studiare anche privatamente. E dunque lei ha voluto proseguire gli studi, ha voluto proseguire gli studi ma non si è fermata lì, perché la sua curiosità era spropositata. Ecco, un giorno passeggiando con la madre, la madre che faceva muovere Lise in una casa enorme, candelabri d'argento, tappeti dal valore inestimabile, pianoforti a coda, ma a Lise tutto quello non le interessava. Camminando con Lise, la madre stava attenta a non schivare le pozzanghere, aveva appena piovuto. Lise invece c'entrava dentro con i piedi, si inzaccherava, voleva proprio vedere cosa succedeva quando trovava delle pozzanghere. In particolare si è chinata una volta e ha visto la luce che veniva riflessa in una maniera diversa a seconda dell'angolazione. la madre perché si era sporcata, una scenata, ma lei voleva capire qualcosa di più e ha iniziato a fare nuove domande. Ma non sono certo i genitori o i maestri a darti quelle risposte. E così ha iniziato a fare le sue ricerche sui libri, fortunatamente. Quella casa era piena di libri. E voleva trovare le sue risposte, le grandi domande, guardando fuori, perché l'arcobaleno ha sempre quei colori, rosso, arancione, giallo, verde, blu, sempre in quell'ordine? Perché sto dietro un vetro quando c'è il sole e non mi abbronzo e se sto davanti invece mi abbronzo? Ecco, Lise Meitner trovava quelle risposte cercando nei libri di scienza. In particolare si interessa una disciplina che nessuno le racconta, nessuno le spiega che cos'è. La madre, figuriamoci. La disciplina era la fisica. La fisica, nessuno ti dice bene che cosa rappresenti per noi. No, Lise, no, ma non possiamo costruire un piano inclinato nel giardino per dimostrare che Galileo aveva ragione. Dai, abbiamo già una fontana, lo sai che la fontana non si adatta a niente? Allora, Lise smette di fare queste richieste alla madre, la elimina e inizia invece a frequentare i grandi professori perché chiede di fare delle lezioni, delle lezioni private perché vuole iscriversi all'Università di Vienna. Figuriamoci. Non ci sono donne all'Università di Vienna, la facoltà di fisica. Ma sei matta. La madre la demotivava in tutte le maniere. Ma fai come tua sorella carola, trovati un bel ragazzo, dai. Queste scemezze qui, dicono i genitori. A un certo punto, Lise si incaponisce, si chiude nella stanza apposta perché vuole concentrarsi e vuole passare questo esame di ammissione difficilissimo e ce la fa. Giorno della consegna della tesina e poi i risultati. Lise Meitler, ammessa, sarà l'unica donna presente a quel corso, 350 ragazzi. Ma a lei non le importava. Lei voleva studiare fisica, era quello il suo sogno. E dunque prosegue. Prosegue nel suo percorso e lei fa così. Non sono sufficienti le lezioni e quando vedeva che c'era un professore che teneva un convegno, allora si iscriveva al convegno, lo seguiva e poi lo andava a trovare nello studio per approfondire gli argomenti. È da loro che si possono avere risposte. E dunque vede che un giorno doveva tenere questa conferenza il grande Ludwin Boltzmann. Ludwin Boltzmann. Era fantastico, lui immaginava l'atomo. A quei tempi l'atomo non era possibile immaginarlo. Non si sapeva come era fatto, figuriamoci, nel ventesimo secolo. C'è venuto tempo, c'è venuta la fisica quantistica per capire il mondo dell'infinitamente piccolo. Allora Lise segue la conferenza di questo tipo un po' tutto scapigliato, va nel suo studio e gli propone già, lei era già oltre, aveva già letto tutto quello che lui aveva scritto e gli aveva detto ma immaginiamo di bombardare degli atomi con una radiazione alfa. Vediamo cosa succede. Certo, dice Boltzmann, certo, lo fa, crea un esperimento e poi pubblica un articolo Boltzmann sull'emissione dei raggi alfa da parte dei metalli. È capito? Va avanti, va avanti il percorso di Lise e segue questa conferenza di questo otto anno. Si chiamava così, quasi la sua età aveva. Interessantissimo. Va bene, vado da lui. Va nel suo ufficio e gli propone dei nuovi esperimenti da fare. Planck quando li vede parlare insieme non ci crede. Erano la coppia perfetta. Farà in modo che lei venga presa come lavorante all'interno del laboratorio. Ecco, diciamo così, lavorante, vabbè. Le donne di quei tempi non potevano essere pagate, dovevano autofinanziarsi il lavoro se volevano lavorare in un laboratorio di fisica per non parlare del fatto che le donne dovevano entrare sul retro. tutti passavano dall'ingresso principale. Lise e Maitre dovevano fare il giro ed entrare dall'ingresso secondario. Queste erano le regole del ventesimo secolo. Ma Lise non gliene fregava, stava realizzando i suoi sogni, era questa la cosa bella per lei. Non è importante niente. I due iniziano a pubblicare articoli. A pubblicare, insomma. Le donne possono soltanto mettere la sigla, non possono mettere il loro nome per esteso. E dunque iniziano a pubblicare articolo 1908, aprile, sull'assorbimento dei raggi alfa e beta da parte dei metalli. Giugno 1908, sull'emissione di raggi beta del lattinio. Settembre 1908, il rinculo radioattivo. La madre. Quando sente di questo rinculo radioattivo, ma Lise, mi ha insegnato a parlare bene. Va avanti, va avanti, pubblicano articoli entrambi siglando tutto quello che loro scrivono O.H.L.M. Quello che pubblicano arriva alle orecchie di un certo Rutherford, tra i più grandi, e li chiama e gli dice voglio conoscere questo O.H.L.M. Sono molto interessanti le cose che dicono, voglio capirci un attimo meglio, voglio discutere con loro di fisica. Li fa arrivare in Inghilterra e li vede arrivare, no? Li vede arrivare dal fondo un corridoio così. Si avvicinano piano piano, sistema meglio gli occhiali. Quando ce li ha davanti? Oh, oh, otto, Anne, certo. L.H.L.M. Una donna. Una donna. L.H.M. Era una donna. Guardi, signorina, qui fuori c'è mia moglie, andate a fare compere, mentre io e il dottor Anne parliamo di fisica. Così dice Rutherford. Ecco, Einstein definiva questi i paludati accademici. Einstein dirà è inutile che gli spiegate come il mondo sta andando adesso, gli influssi che arrivano benefici dalle arti, dalla musica, dai film. Questi non lo capiscono, ma non è importante. Tra poco moriranno. Diceva questo, eh. Va avanti. E lì, infatti, se ne frega. Figuriamoci, Einstein ha iniziato a definirla. Lei conosce tutti in quel periodo, perché i suoi lavori erano strepitosi e chi se ne fregava del fatto che era donna, ma soltanto per meriti, la omaggiava, era Albert Einstein, era Marie Curie. Einstein la definisce la nostra Marie Curie, la Marie Curie tedesca. E poi un certo Werner Heisenberg, un giovane, scalpitante tedesco, inizia a guardarla e inizia a essere completamente sedotto dalla sua intelligenza. Così fanno con Lisa. Gli piace come ragiona, gli piace come parla. Ci sono delle donne che diventano brutte appena aprono bocca, altre invece che affascinano. Più parlano e più diventano belle. Lisa Meitner era questo. Heisenberg inizia a incuriosirsi. In quel periodo lì stava nascendo un gran gruppo di lavoro in Europa, stava nascendo il gruppo che avrebbe dato le basi alla fisica quantistica. Niels Bohr da Copenhagen era il grande orchestratore, era il grande maestro che teneva tutti all'interno del suo edificio. Heisenberg era l'allievo più scalpitante, creerà il suo principio di indeterminazione di Heisenberg che pone le basi sulla teoria ortodossa della fisica quantistica. Lisa Meitner proprio sul mondo dell'infinitamente piccolo era ormai un'esperta. Iniziano a candidarla per la vittoria del premio Nobel insieme a Otto Hahn. Una volta, niente. Due volte, sostenuta a gran voce da Niels Bohr, da Einstein, da Marie Curie, da Heisenberg. Due volte, niente. Terza volta, niente. Quarta volta, niente. Dieci, non riesce mai a vincerlo. La coppia, Otto Hahn, Lisa Meitner verrà candidata dieci volte, non lo vincerà mai. 1933, sale al potere Adolf Hitler, viene diffusa la legge secondo cui tutti i professori, gli studenti di origine ebraica dovevano abbandonare le scuole. Lisa Meitner, ebrea, va su, va al nord, prima passa da Copenhagen a Niels Bohr e poi va in Svezia. Einstein partirà e andrà in America, andranno via tutti, Max Born, Schrödinger. La Germania perderà i suoi talenti migliori, rimarranno lì Heisenberg, Otto Hahn, Planck a lavorare dentro. Lisa Meitner in Svezia. Da lì continua a lavorare con Otto Hahn a distanza. Otto Hahn continuerà a fare i suoi esperimenti di laboratorio e si scambieranno lettere. Aprile 1938, Otto Hahn scrive a Lisa è successo una cosa strana oggi durante un esperimento. È avvenuto come uno scoppio. Non riesco a spiegarmelo. Va bene? Va bene, dice Lisa, dobbiamo incontrarci. Devo capire qualcosa di più di questo scoppio. E dunque fa in modo di incontrarsi con Otto Hahn nascosto da tutti proprio a Copenhagen da Niels Bohr che li ospita. la Danimarca sarà a terra occupata dal 41 e dunque riusciranno a incontrarsi a parlare. Parlano un'ora, due ore, tre ore, quattro ore e poi Otto Hahn gli dà un blocco di fogli e gli dice queste sono tutte le cose che ho trovato nel mio esperimento. Dagli un occhio per favore, cerca di risalire a quello che è avvenuto a questo scoppio. Va bene? Lisa se lo porta a casa in Svezia a settembre 1938 Lisa Meitner scrive a Otto Hahn neutroni ad alta energia questi miei calcoli seguono dieci pagine di calcoli raffinatissimi in cui racconta tutto quello che è avvenuto in quel laboratorio verrà attribuito il premio Nobel per la chimica a Otto Hahn in questa cerimonia per il ritiro del Nobel Otto Hahn non nomina mai Lisa Meitner va bene? mi interessa Lisa Meitner pensava al Nobel che fosse una di quelle statuette di soprammobili che la madre teneva in casa non gliene fregava niente lei voleva continuare a fare fisica la fisica quella bella e dunque continuerà a farlo in Svezia e poi andrà a Cambridge a Cambridge proseguirà quando sentirà della notizia della bomba delle bombe sul Giappone da parte degli americani entrerà in un momento di depressione che non ha uguali vivrà il periodo più brutto della sua vita porterà avanti campagne per il disarmo per la pace cercherà di portare avanti a più non posso tutti i negoziati per la costruzione dell'agenzia atomica delle Nazioni Unite dedicherà la sua vita per la pace e contro la creazione di armi Lisa Meitner morirà a 90 anni a Cambridge sulla sua tomba c'è un epitaffio sono andata a vederlo Lisa Meitner una fisica che non ha perso mai la sua umanità ma il mio lavoro è correggere i ricordi lo faccio spesso per me la sera prima di andare a dormire ma in questa storia lo faccio anche per altri in questo caso Lisa Meitner nell'ultimo periodo della sua vita ha approfondito un aspetto che forse per noi è la cosa più attuale più utile per la nostra vita di tutti i giorni ha cercato di capire quanto sono importanti le cose che diciamo quanto sono importanti le persone che avviciniamo e quelle conquistiamo insieme in una delle ultime lettere che ha scritto prima di morire dall'ospedale c'è pure quella indirizzata a Werner Heisenberg e gli disse una frase bellissima gli disse con le parole siamo complici forse dovrebbe essere questo l'epitaffio reale su quella tomba ecco Lisa Meitner ha avuto la capacità di farci capire a tutti noi di non stare con chi non ci fa fiorire lei come le altre grandi donne della scienza portano avanti questi valori questi principi e per me sono fondamentali riuscire ad entrare nella loro vita per capire la mia Lisa Meitner Marie Curie Rosalind Franklin Rita Margherita Samantha Fabio Lada Cien Barbara McClintock tutte donne straordinarie che hanno creato nuove città dove vivere nuove porti dove realizzarci mi viene in mente mi viene in mente Calvino per questi porti non saprei tracciare la rotta su una carta né fissare la data di un approdo alle volte basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo di un paesaggio incongro un affiorare di luci nella nebbia il dialogo tra due passanti che si incontrano nel via vai per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta fatta di frammenti che si mescolano con il resto fatta di stanti separati da intervalli fatta di segnali che uno manda e non sa chi li raccoglie se ti dico che la città verso cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo tu non puoi credere che si può smettere di cercarla l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n'è uno è già qui è quello che viviamo tutti i giorni stando insieme due modi ci sono per non soffrirne il primo riesce facile a molti adattarsi all'inferno e farne parte fino al punto da non vederlo più il secondo è rischioso ed esige attenzioni e apprendimento continui cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio spazio Lisa Emitri Rosalind Franklin Rita Margherita Samantha Fabio Lada Chen tutte queste donne riunite in un'unica equazione saranno una la continuazione dell'altra e saremmo una il testimone dell'altra io prenderò il testimone da loro e lo porterò in giro e specchiandomi in queste donne vedo riflessa la parte di me stessa di cui prendermi cura come il più prezioso dei regali della vita grazie